Il fronte anti Putin si allarga anche agli oligarchi. Con quella che lui stesso ha definito la scelta più seria della sua vita, il tycoon dell'alluminio e dell'oro russo, Mikhail Prokhorov, ha annunciato la formazione di un nuovo partito e la sua candidatura alle presidenziali di marzo. Sono confortato nel vedere il ritorno della società civile. La gente non è più passiva, questo è un aspetto positivo, ma sono contro le rivoluzioni. Conosco bene la storia e tutte le rivoluzioni in Russia sono finite con spargimento di sangue e con drammatiche conseguenze per il tenore di vita. L'annuncio della sua candidatura arriva lo stesso giorno in cui il potente ex ministro delle finanze Alexei Kudrin dichiara di essere pronto a impegnarsi per la nascita di una nuova formazione di destra. Prokhorov non ha escluso la possibilità di cooperare proprio con l'ex responsabile dell'economia silorato dal presidente Medvedev.